Ciao a tutti! Oggi prepareremo le castagnole all'Alkermes con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi di arachidi, latte, liquore alkermes, gocce di cioccolato fondente, lievito per dolci vanigliato, sale, scorza di limone o pasta di limone, vanillina, liquore alkermes e zucchero semolato. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero, il latte, l'olio, il liquore alkermes, la vanillina, e la pasta di limone o la scorza di limone. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, il lievito, il sale ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità a 4. Trasferire il composto in una ciotola, aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare con la spatola. Con l'aiuto di due cucchiai versare una pallina di composto in abbondante olio caldo e friggere. Riporre successivamente su carta assorbente, passarle nell'ail kermes e nello zucchero semolato e servire. Castagnola all'ail kermes con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!